Milano Unica, zona tendenze. Devo dire che quest'anno le tendenze mi sembrano fatte molto bene, sono facili da interpretare. Penso che ci sia un grosso settore per quello che riguarda il sostenibile, riciclato, quindi un'ottima tendenza per quello che riguarda tutto il settore moda. E la tendenza di avere un mondo migliore.